Da Camaldoli vengono orientamenti basilari che riscontriamo oggi nel nostro ordinamento, anzitutto l'affermazione della dignità della persona e del suo primato rispetto allo Stato, con il rifiuto di ogni concezione assolutistica della politica da cui deriva il rispetto del ruolo e delle responsabilità della società civile. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un editoriale pubblicato da Toscana oggi. L'occasione è il convegno organizzato dalla CEI e in programma a Camaldoli tra il 21 e il 23 di luglio per celebrare gli 80 anni del Codice di Camaldoli. Lui richiama alla dignità della persona, quando qui a Camaldoli fu messo in evidenza l'importanza della dignità della persona anche rispetto allo Stato. qualcosa che andava contro quell'assolutismo, quel regime da cui ancora veniva governata in quel periodo l'Italia. Vi è ragione, conclude il Presidente, di essere ben orgogliosi guardando ai padri fondatori del Codice di Camaldoli per il segno che hanno saputo imprimere al futuro della società italiana. È un appuntamento atteso, molto importante, a cui guardiamo con grande fiducia, con quel senso anche di responsabilità per aver ricevuto una bellissima pagina di storia e con l'impegno anche di togliere la polvere da questa pagina di storia.